ciao a tutti un saluto da massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di i love italo disco anzi questo è un secondo appuntamento con cantante anche dj tra l'altro torneremo negli anni 80 per parlare dei trex e non solo con noi abbiamo ax donne ciao ax ciao 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 a tutti ciao max ciao ciao aurelio detto ax aurelio donninelli in arte ax donne dei tracks by tracks fantastico fantastico ma si dice tracks o trex no no noi l'avevamo concepito come proprio trax perché è una frase un'umato peca no di rottura trax e quindi non è all'americano all'inglese proprio trax tipo bang e tipo splash poi che poi è stata concepita in un secondo tempo perché all'inizio noi volevamo mettere con la c come binario come traccia però dopo il nostro grafico si era scordato di questa c perché a livello grafico veniva fuori anche meglio senza la c anche noi abbiamo detto bella è una bella frase onomatopeica di rottura infatti noi giravamo sempre un po un po strani quel periodo 82 quindi anche come abbigliamento e 15 siamo lasciati tracks fantastico fantastico intanto invito tutti i nostri amici ascoltatori che ci stanno seguendo praticamente di andare a recuperare anche la prima chiacchierata che abbiamo fatto con ax e telefonica quella volta telefonica e questa volta dai siamo in video perché perché ax ha delle chicche da farci vedere piano piano già ho visto qualcosa qualche cosa però non hai visto le cose che sono 35 38 anni che non si vedono allora una chicca è per tutti noi era in esclusiva in anteprima per certe cose per certe situazioni ti ringrazio della diciamo della fiducia dai ax iniziamo questa nostra chiacchierata ecco raccontaci un attimino come sei entrato nel mondo della musica beh va bene e questa è una passione un po come tanti altri artisti tante altre persone ce l'hai da bambino da piccolino tanto è vero che io era il periodo che andavano di moda le famose figurine panini per i calciatori oppure noi andavamo sempre in parrocchia c'era la parrocchia dove ci si vedeva un po noi bambini noi ragazzini e quella volta si giocava con le con le palline noi chiamavamo le palline le biglie quelle di legno io invece di andare a comprare le bustine di biglie parliamo di dello scorso secolo e quindi sto sto dicendo la verità io mettevo da parte le 10 lire le 5 lire 10 lire che c'era quella volta per comprarmi 200 lire il disco un disco io ho dei dischi del 67 del 65 del 64 stevie wonder che canta in italiano addirittura canta non sono un angelo alcuni dischi che dino il sole di tutti che era un pezzo di stevie wonder insomma mettevo a posto mettevo insieme queste 200 lire andavo a comprare i dischi quindi non ero appassionato di calcio oppure facevo la collezione di figurine così e la passione è nata lì poi dopo anzi mi ricordo pure che una volta mi sembra in terza in terza elementare mi hanno sospeso per tre giorni perché nel momento della ricreazione io sono montato sopra un balco a fare adriano celentano a farlo stupidino adriano celentano no perché mandavano una musica nella ricreazione avevano finito la ricreazione io ancora facevo lo stupido a fare adriano celentano quindi entra dentro la professoressa la maestra mi ha visto sopra il banco ha chiamato il direttore mi hanno sospeso tre giorni sentivi già dentro di te la cosa mi piaceva mi piaceva fare musicale con gli amici queste cose qua poi ho avuto la prima occasione nel 70 71 di mettere un qualche disco ancora mio padre non aveva messo sulla discoteca noi avevamo la prima discoteca nel 72 a falconara marittima il rouge noir tu immagine in quel periodo la le donne pagavano le donne 800 lire perché c'era la differenza e l'uomo 1200 lire 1200 lire la differenza c'era la differenza la differenza di don e sì perché ci dove essere più donne allora la donna per quel periodo la le due trecento lire tre quattrocento lire faceva la differenza compresa la consumazione attenzione compresa la consumazione però io l'anno prima nel 71 c'erano le famose ballere e allora che cosa succedeva che il la band doveva fare un magari un quarto d'ora 20 minuti di pausa e ci doveva essere una persona perché in quel periodo la primi anni settanta sai la parola disc jockey non si sapeva neanche come bisognava scriverla e allora c'era quello che ci aveva un piatto un giradischi metteva su dei 45 giri continuava a far ballare un po la gente ecco per 20 minuti e poi dopo riprendeva la band della l'orchestra insomma ecco poi nel 71 cominciato nel mio locale il famoso rouge noir che mio padre ha fatto questo locale avevamo un mobilificio poi c'era stato tu non potrai ricordare ma un forte terremoto ad ancona che ha durato parecchi mesi abbiamo tolto il nuovo edificio abbiamo fatto questa discoteca il rouge noir e da lì ho iniziato a fare gli sciocchi con elenco poi ci avevo abbiamo sostituito elenco con i torrents decenni dopo sono arriva qualche qualche anno dopo sono arrivati i famosi technics in 1200 quella volta non c'era il messaggio la cuffia si adoperava solo per prendere i brani da un lp per vedere dove dove mettere no la testina la puntina quindi la cuffia non l'adoperati e da lì è nato il discorso che quando tu missavi da un pezzo all'altro dovevi annunciare il brano dovevi fare un po di casino e c'erano qualcuno che cominciava a impostare la voce ciao diciamo queste stupidaggini no questo brano è di james brown sex machine dovevi impostare la voce certo e allora è da lì è nata la passione poi dopo nel 74 mi hanno chiamato che anzi se riesco a trovare ti faccio vedere una cosa in quel periodo la diciamo primi anni 70 75 76 77 andava molto di moda l'associazione italiana disjockey di renzo arbore gianni naso e e se riesco adesso a trovarla ti faccio vedere ti faccio vedere questo questo tesserino che io l'avevo preso e sembrava adesso lo troverò e sembrava che eri disjockey numero uno capito però ti faceva comodo perché magari guadagnavi mille lire di più rispetto a un altro che non ce l'aveva e i proprietari dei locali proprietari dei locali alcuni ci stavano attenti a queste cose e allora io avevo preso questo tesserino e adesso se riesco a trovarlo che lo farò vedere faceva un po di curriculum moltissimo in quel periodo la faceva molto curriculum questo tesserino da disjockey e io mi ricorderò sempre che c'avevo lo 0 100 eccolo qui guarda ti lo faccio vedere non so se si vede vedi 1976 tu aprivi è saltata la fotografia perché chiaramente era con un e qui forse troppo chiaro ci mettevi i nomi dei locali aurelio doninelli tutte queste cose qua e questo mi ha fatto sì di arrivare fino giù a teramo nel 74 come disjockey nel 74 avevo fatto la stagione estiva al petit flair di alba adriatica e al petit flair di alba adriatica 1974 veniva parecchi venivano parecchi ragazzi da roma e immagina una cosa il destino cosa in un gruppo di questi ragazzi una sera vedo sotto la mia console che stavo lì così un ragazzo capelli un po lunghi mori con un po di baffi queste cose insomma per stringere ci siamo riconosciuti con altri amici suoi romani una cosa un'altra pipì è stati lì una settimana per per fare la vacanza e dopo lui è ripartito così lui era paolo micioni a paul micioni che cosa succede che io vengo intercettato da dei proprietari di teramo perché io lavoravo ad alba adriatica a un'ora di strada tre quarti d'ora c'era terramo dove inauguravano una nuova discoteca nuova i proprietari avevano sentito di questo personaggio perché mi ero inventato un personaggio io sono stato sempre un po strano su queste cose capello lungo tutto vestito di bianco che poi io sono stato sempre quello che si il missaggio tutto quanto però cercavo di curare un po di più l'aspetto musicale no avere una certa linea continua di musica cioè se facevo un pezzo soul poi dopo non mettevo un brano di un artista che magari era bianca continuavo con il genere un po solo un po un po nero insomma hai capito facevo tutte le selezioni così poi dopo in quel periodo là c'erano anche i famosi lenti che dovevi no andare in giro a piccare i lenti così che cosa succede io vado a lavorare a teramo dovevo fare la stagione del 75 per un inverno invece sono rimasto a termo cinque anni l'anno dopo del 74 dal badriatica in quello stesso mio locale che avevo fatto io un anno prima ci va a lavorare paolo micioni e lui perché aveva cominciato pure lui a fare gli sgiocchi e noi ci siamo rincontrati dopo un periodo di tempo appunto lì ad al badriatica che lui faceva gli sgiocchi e poi dopo due anni credo fra il 77 78 non mi ricordo bene di preciso lui siccome dopo lavorava anche a roma l'isigo in così dopo ha fatto easy going certo te ne ricordi con claudio simonetti e produzione gian carlomeo no baby i love you e bellissima esatto e io invece stavo in quel periodo la stavo a teramo lavoravo a termo a questo locale che si amava lo sciacchi du facevo dal giovedì alla domenica giovedì sera venerdì sera sabato sera e domenica pomeriggio però rimanevoli fisso sono stato di cinque anni poi dopo noi ci siamo rincontrati a roma perché io dopo nell'ottanta sono andato a capri a farmi la stagione giù a capri sei mesi per la volta funzionavano molto le 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 stagioni non è che faceva una serata qui il sabato la si rimanevi un luogo per un certo periodo esatto due mesi un mesi cinque mesi a seconde quindi io nell'ottanta sono andato a capri perché dei ragazzi mi hanno visto lavorare allo sciacchi du che erano avevano fatto la settimana bianca sul gran sasso alla sera sono venuti giù in discoteca mi hanno visto e li ho conosciuti e mi hanno proposto giù allo sciacchi du perché conoscevo nel proprietario sono andato giù a fare un provino famoso provino è andato benissimo e sono rimasto lì sei mesi da aprile fino a settembre quando sono rientrato nell'ottanta invece di andare a terramo che ormai il contratto non ce l'avevo più vado a roma a lavorare in un locale di paolo micioni che si chiamava il merli m merlin moro poi sempre io continuavo come disc jockey una sera io paolo pietro che sarebbe il fratello salutiamo si si è da un po di sono parecchi anni che non ci vediamo più con loro con paolo e pietro e che cosa succede andiamo a fare una serata e c'era anche mariano con noi altro amico che dopo farà parte dei tracks tutti e quattro partiamo andiamo a terra ma fare una serata in un locale l'ex sciacchi du paolo e pietro al ritorno ci viene in mente di fare questo long trail running dopo 15 20 giorni paolo prenota una sala una sala un sedici piste addirittura neanche ventiquante e da lì nasce l'ontro e running l'idea di rifare un vecchio successo come mai quest'idea di rifarlo sa di quelle cose che a noi ci intanto era un 45 giri io lo programmavo sia dai veloci ai lenti perché c'era questo sbalzo no quando tu venivi dai lenti che facevi i 4 5 7 lenti non potevi subito iniziare con delle battute capito allora ci avevi quei due tre dischi che ti portavano al ai pezzi più veloci diciamo oppure il contrario gli ultimi due dischi dai pezzi veloci facevi un pezzo si ballava non si ballava e poi spegnevi le luci e cominciava i lenti cominciavano perché tu in quel periodo la parliamo sempre anni 70 tu facevi di tutto spegnevi le luci controlla c'era un po il tutto fare e tutto fare insomma non c'era capito il vocalist il light joe delle luci esatto e da lì ci viene l'idea di fare questo long trail running fatto long trail running fortunatamente con incontriamo dei coproduttori francesi però c'è da dire una cosa questa la devo dire noi avevamo provato a farlo uscire ti faccio vedere a farlo uscire anche qui in italia ma qui in italia non ci aveva calcolato nessuno perché non poteva funzionare un pezzo così per l'italia ecco vedi questo disco qui senza neanche la copertina c'è soltanto un trenino non so se sì forse si vede un po troppo chiaro va bene però questo qui vale molto perché è stato fatto proprio dove c'è un etichetta senza niente avevamo stampato mille copie ma non era non aveva funzionato tanto poi dopo è uscito anche con la best record di claudio casalini ma dopo fortunatamente abbiamo incontrato questi francesi e loro hanno detto vita vi diamo un'idea dateci la cassetta l'abbiamo abbiamo portato la cassetta al midem a can ci hanno preso questa cassetta dove c'era long trail running e hanno detto noi adesso la duplichiamo la diamo a 20 10 disgiocchi parigini di parigi e vediamo quello che succede lasciamo il numero di casa di paolo quella volta chiaramente non c'era internet non c'erano computer non c'era telefonini non c'erano una sera la mamma quando rientra paolo dice guarda ha chiamato della gente da parigi ha detto che fra mezz'ora vi richiama ti richiama non ho capito molto bene e loro ci hanno chiamato lì a casa di paolo e ci hanno detto guardate inventatevi qualche cosa che ne so il look così perché noi gli avevamo andato così si si buttato lì buttato lì così perché qui a parigi si parla soltanto di tracks di long trail running qui sta succedendo un'ira di giro vi vogliono vedere praticamente sì perché dopo circa un mese era prima in classifica ma aspetta aspetta poi ci arriviamo ax ma ti volevo fare una domanda tornando alla long trail running ma è stato la tua è stata la tua prima esperienza nel studio sì 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 ma ecco una curiosità ti spiego paolo veniva già da easygoing sì 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 pietro aveva già fatto uno due dischi cantando anche in italiano queste cose sì sì bravo ci siamo rivisti quattro amici di sgiochi ci siamo così nel passare alle tre di notte con la macchina al passo delle cappanelle ancora mi ricordo per andare verso da termo a roma vogliamo fare un disco entriamo dentro di qua di su di giù di là mettiamo un po di soldi ok dopo 15 giorni facevamo questo disco e come ti sei trovato in studio la prima volta è rimozionato guarda se ti devo dire la sincera verità è stato tutto quanto ci ci abbiamo messo una settimana dieci giorni però come ti posso dire era quasi un gioco vabbè giochiamo ci siamo messi d'accordo sul prezzo su tutto quanto abbiamo preso valter martino dei musicisti di corico e così abbiamo fatto una rimpatriata soprattutto paolo conosceva parecchie persone e boom abbiamo fatto questo disco tanto è vero che dopo tanto tempo si può anche dire un'altra cosa che il famoso loop abbiamo fatto con un nastrino con un nastrino lo tenevamo con una penna perché quella volta non c'era come ti posso dire il loop il sync così allora abbiamo messo il disco che chiaramente i dubbi brothers se si accorgono non puoi sapere le denunce che potevamo prendere e abbiamo fatto questo pezzo insomma così tra l'altro è l'82 81 82 82 primi mesi dell'82 tutto è successo fra diciamo fra l'82 e l'83 perché dopo nell'83 avevamo fatto get ready che era un pezzo dei rare earth perché poi dopo ci avevano consigliato dice dal momento che avete fatto un boom enorme con l'ontra running continuate sul discorso dei cover di fare dei pezzi vecchi però rivisitati in versione un po più e avevamo fatto che 3 di eravamo indecisi fra get ready e all right now dei free e qui c'è un aneddoto stupendo perché è proprio una sera eravamo la iep di roma e stavamo decidendo di fare questo secondo pezzo già francesco puccioni cioè francesco puccioni mike francis mike francis era già uscito con un pezzo però non è che era era già uscito con un brano molto molto interessante ma così una sera un pomeriggio eravamo alla iep e stavamo decidendo appunto quale brano fare e francesco viene alla iep e ci dice ragazzi mi è venuta un'idea non so se così però e si mette sul piano e comincia a fare col dito e ha cantato questa melodia al che ci guardavamo come da dire porca miseria ma questo è un pezzo però gli abbiamo detto Francesco noi veniamo dall'Ontre Rani cioè a cantare Hey Survivor chiaramente Paolo l'ha individuato subito dopo una settimana l'ha portato in studio e gli ha fatto fare i Survivor ma se no con Francesco ci aveva detto mi è venuta un'idea per voi però non era in linea con il vostro modo di fare il vostro modo di essere anche perché tu immagina una cosa per farti capire che libidine avevamo quando ci hanno chiamato e ci hanno detto venite subito a Parigi vi aspettiamo ecco il look, il famoso look il look io e Paolo siamo partiti da Roma ma tu immagina cioè sembra che a Roma non c'erano i negozi non è che stavamo in un paesino di 400 abitanti da Roma siamo partiti siamo andati a Milano a comprare i vestiti perché ci avevano detto che a Milano c'era un negozio e Paolo già lo conosceva che si chiamava Comlan ed era un negozio dove ci si rifornivano molti artisti molti personaggi un po' ambigui gay capito era infatti quando noi siamo andati lì sia il proprietario il commesso era gay e ci hanno dato delle belle dritte hanno guardato i personaggi tutte queste cose e da lì infatti oggi vediamo come Sanremo tutti truccati con le unghie con quello che è noi lo abbiamo fatto nell'82 perché cioè noi giravamo così nell'82 non so se ecco cioè quando andavamo negli aeroporti la gente un po' si spostava perché per farti capire questa era la copertina di Ukenfield questo era Pietro qui c'è Mariano Paolo non l'aveva fatta però ti voglio dire eravamo forse venti anni avanti non ci avevano neanche preso come italiani pensavano che eravamo o inglesi o tedeschi sì sì perché è impossibile in quel periodo là parliamo 81 82 83 84 la dance che dicevamo la dance italiana era faceva un'altra cosa stiamo andando su a Milano per il discorso dei vestiti quindi chiaramente anche su a Milano ci dicono non è che basta soltanto il vestito cercate di anche voi un po' darvi una messa a posto così va bene già portavi i capelli molto molto lunghi quindi mi hanno consigliato anche di fare dei piccoli non so colpi di sole Paolo tutto truccato sugli occhi con l'eyeliner la matita esatto perché c'era Paolo che mascava un po' più maccio era il maccio della situazione io ero più quello ambiguo un po' più frifri poi c'era Peter che era il più giovane di tutti era quello che dava l'idea del più bambino hai capito Mariano era quello un po' più grezzotto nel senso più anche lui un po' più maccio con il giubbino qui davanti tutto aperto con un po' di pelo qui davanti quindi avevamo creato queste cose e ti dico subito in Italia forse no perché noi abbiamo fatto il successo all'estero cioè noi quando abbiamo preso i dischi d'oro sia in Francia che in Germania la gente impazziva ma ancora qui non eravamo usciti in Italia tant'è vero che la copertina che dopo ti faccio vedere della Poligram con la Polido vedi questa copertina qui sotto erano abbinate Poligram e Polido erano gemellate e quando in Germania hanno detto dice il disco d'oro e loro hanno detto ma scusate voi non ce l'avete questo gruppo in Italia sono italiani e loro hanno detto ah non lo sapevamo dopo è arrivato il successo anche in Italia ma il successo più grosso è stato in Francia noi quando ci hanno dato il disco d'oro avevano organizzato una festa boreale capito con gli imagination ti ricordi gli imagination ricordo ricordo F.R. David David Christi stavamo allo Scribihotel David Christi era Settle up and got your body Settle up and da 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 poi dopo c'erano i Gibson Brothers ah ok questi li abbiamo conosciuti tutti quanti ma erano propri amici tant'è vero che abbiamo fatto due volte Music Laden che era una trasmissione ancora più potente di Disco Ring in Germania e passavi soltanto se il tuo pezzo era andato nelle prime 4-5 posizioni a livello europeo ma la vostra preparazione per andare in video ad esempio in queste trasmissioni era improvvisata o avevate già i movimenti tutto già studiato prima no era allora avevamo due o tre cosettine che si vede anche in un video che avevamo fatto a Roma all'ex Matchmore che di dietro c'è scritto Matchmore che dopo è diventata Acropolis e noi dopo avevamo fatto finito nell'85 avevamo inaugurato anche l'Acropolis come la live jockey c'avevamo due o tre cosettine ma proprio io che andavo vicino a Peter un po' facendo delle mosse tutte queste cose qui però andavamo molto naturali andavamo distinto anche perché Paolo già veniva dall'esperienza easygoing quindi sapeva come ci si muoveva eravamo disjockey non è che venivamo capito cioè dietro a una console davanti a del pubblico non eravamo timidi insomma certo c'era già l'esperienza alle spalle avevamo fatto avevamo fatto una piccola tournée a Montelimars Antropeca Nizza quando siamo stati a Lione c'erano quasi 15.000 sul palazzetto 15.000 persone e c'erano c'eravamo noi Capitan Sensible non so se lo ricordo esatto e invece in Germania lì è stato proprio secondo me irripetibile perché lì ci siamo incontrati con Phil Collins Laura Brunningham Cool and the Gang c'era Cliff Richard Robin Gibb David Gies al Jimmys una sera siamo andati giù c'era Eric Clapton che è andato dal disc jockey pensa che roba noi gli avevamo portato al disc jockey il long trail running lui si è alzato su ce l'avevamo dietro perché stava facendo una tournée e è andato dal disc jockey per dire ma chi so questi che hanno fatto sto long trail running perché lui li conosceva i Newly Brothers non è che veniva e dopo il suo road manager con il nostro road manager si sono parlati un pochettino e abbiamo fatto una tavolata insieme in questo locale e ha parlato con Eric Clapton a stare lì che ci faceva i complimenti per questa idea e noi dicevamo ma te fai i complimenti a noi noi stiamo qui a parlare con Eric Clapton immaginate che spettacolo vi faccio vedere un'altra cosa eravamo molto molto amici eravamo diventati molto amici perché già ci eravamo incontrati due o tre volte non so se ecco con le sister slage qui si vede poco ma qui c'è scritto the best tracks my friends axe cioè praticamente ci sono gli autografi sì sì ci hanno scritto loro capito the best oppure axe marian guarda ti dico un'altra cosa quando se ci sarà un'altra occasione tu immagina che phil collins che lui aveva presentato un brano adesso non me lo ricordo però non si era messo lì alla batteria a mariano a mariano mariano a phil consigliere ha chiesto lui aveva delle bacchette nella sua valigetta di autografare al mio amico marian savati by tracks phil collins perfetto tu immagina che artisti che sono che erano che sono mariano ha chiesto a lui delle bacchette così come gentilezza come maria phil collins ha chiesto a mariano se gli poteva dare le bacchette sue e firmarle e mariano gli ha scritto al mio amico phil collins marian savati by tracks perché mariano stava alla batteria alla batteria quindi pensa che soggetti che erano questi tu c'è bellissimo bellissimo artisti stupendi perché quella era una trasmissione che andava in diretta quindi noi dovevamo fare due giorni di prove in questo mega studio d'accordo quindi stavamo tipo sette otto nuove ore dentro a questi studi a truccarci a vestirci poi facevamo le prove così per due giorni al terzo giorno si andava in diretta e quindi tu passavi le giornate i pomeriggi con Colin The Gang con Phil Collins Laura Braniga te la ricordi King Carnes Mariano un pomeriggio ci ha giocato sempre ogni tanto la prendeva perché era piccolina la buttava superaria ma senti c'è una grandissima esperienza è stata bella sono stati due anni tre anni dall'ottantadue all'ottantacinque poi dopo nell'ottantacinque abbiamo fatto You Can Feel It nell'ottantacinque aspetta ti vorrei fare una domanda anche hai parlato anche di apparizioni televisive in Italia sì abbiamo fatto circa che cosa avete fatto disco ring abbiamo fatto disco ring poi c'era una trasmissione che andava fortissimo premiatissima su Milano premiatissima poi c'erano tutte queste trasmissioni anche di pomeriggio con Daniele Piombi ma anche Popcorn mi sembra abbiamo fatto Popcorn dopo c'era non so il disco estate il disco inverno tutte queste trasmissioni abbiamo fatto Sciacca Mare giù a Sciacca ci siamo divertiti tantissimo perché siamo andati giù con Gary con Gary Law con Gary è stata una cosa con Gary Law con Gazzivo quando si partiva si partiva questo gruppetto capito facevamo le televisioni ma ci si divertiva a Sciacca Mare a Sciacca Mare è arrivato un momento che il direttore dell'albergo ci voleva mandare via tutti quanti cioè abbiamo cominciato a farci i famosi gavettoni a tirarci l'acqua prima con una bottiglietta poi con un bicchiere poi con un palloncino avevamo gettato ma dentro le stanze dentro le cose quindi rincorravamo Gary Law per il corridoio buttavamo l'acqua insomma per fartelo in breve dopo circa un'ora un'ora in quarto di questi gavettoni che ci facevamo l'acqua cominciava a uscire dalla stanza dell'albergo delle camere da letto ma tu non puoi sapere c'era il gruppo italiano te lo ricordi il gruppo italiano? sì topicana non puoi sapere non puoi sapere non puoi sapere cosa avevamo combinato io l'ho sempre chiamato zio Gary no? Gary Law zio Gary siamo andati in Grecia insieme vi siete divertiti tanto tantissimo tanto 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 ma tornando ai look sì so che hai qualcosa lì da farci vedere allora ti volevo far vedere una cosa esattamente allora intanto puoi subito immaginarti partiamo da questa cosa qui che ti faccio vedere se tu vai a vedere sulle copertine dei dischi sulle copertine dei dischi qui è difficile adesso a vederlo qui a vederlo allora la caratteristica cos'è che era i pantaloni aperti davanti e dietro io con la calza maglia e il sospensorio e sotto al pantalone c'era questa questa cinta qui questa era la cinta poi questi qui ti faccio e li ho presi apposta erano gli stivali che avevo questo era la calza maglia gialla che molti pensavano che io sotto al pantalone non ci avessi niente giravo con le chiappe di fuori come si dice invece no c'era questa calza maglia questi erano perché questo era il secondo il secondo abito che avevamo fatto il primo era un po' più così ma il secondo questo è il pantalone aperto con tutti gli strass davanti che si apriva qui vedi e si metteva qua ci si chiudeva so cosa c'era la cinta fantastico e questo era il giubbino con tutte le paillette se tu vai a vedere e dopo te lo posso far vedere un attimo al volo questo giubbino qui te lo posso far vedere soltanto su così se qualcuno gli piace con Trax Get Ready in Germania e c'è c'è Trax io con questo questo indumento qui vediamo se eccolo qua Get Ready non si vede però questo video lo vedranno i nostri amici alla fine della nostra chiacchierata ecco 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 questo è Peter non so se si riesca appena appena a vederlo qui c'è il vestito questo qui va beh bello che bella chicca è questa Ax e quindi ma che emozione ti fa scusa a toccare questa questi indumenti dopo 40 anni possiamo dire eh sì perché 82 2022 2023 noi proprio quest'anno fra il 2022 e 2023 abbiamo fatto 40 anni con L'Oltre Running Get Ready poi nell'85 è uscito You Can Feel It che emozioni provi in questo momento con me a parlare del passato a toccare questi indumenti che cosa provi Ax ma guarda ogni tanto escono fuori quando parliamo di queste cose anche fra qualcuno che non ci conosce con qualcuno che non ci conosce oppure quando mi incontro anche ogni tanto con Mariano escono fuori delle situazioni che abbiamo vissuto in quel periodo là più dei ricordi come quando uno è anziano che si rincontra con gli amici visto da questa parte di qua neanche uno si rende conto che c'era successo quello che è successo insomma che per due o tre anni eravamo sulla bocca di tante persone calcora che noi ce l'hanno detto dopo dopo tanti anni così in quel periodo là fra cassette 45 giri mix eccetera eccetera avevamo venduto come 6 milioni di copie complimenti cioè in quel periodo là prendere il disco d'oro non è come oggi con 20.000 copie quella volta dovevi farne 250.000 cioè era un'altra storia in Germania altre 250.000 copie quindi fra la Francia e la Germania già c'era mezzo milione di pezzi sul mercato sai perché Max perché in quel periodo là i dischi si vendevano non è come adesso che i dischi li fai oggi durano un mese 15 giorni finito o hai venduto noi quando facevamo le televisioni anche dopo 6 mesi le classifiche dopo 15 giorni aveva venduto 1500 pezzi in più cioè un disco te lo portavi per 5, 6, 7, 8 mesi capito non ti voglio dire anche un anno esatto quindi tant'è vero che alcuni artisti facevano un disco all'anno perché ancora dopo 8, 9 mesi 10 mesi ancora quel disco vendeva capito anche se era e quindi la situazione funzionava funzionava tantissimo ti faccio vedere una cosa ti faccio vedere intanto guarda non so se si vede questa foto questa ho visto guarda guarda che bella è questa con tutte e quattro sì qui allora ti dico subito questa foto è stata fatta dentro al locale di Paolo al Merliem che era aveva messo su localino lui con un'altra persona io ce l'ho dopo lì per un periodo di tempo ci ho fatto il disc jockey qui siamo per terra sopra la pista di acciaio vedi sopra la pista di acciaio e ci siamo messi così tutti qua questa era la famosa cartolina che noi davamo ai fan quando andavamo in giro capito era la cartolina con tutti i nostri nomi dopo dove ci si faceva sopra l'autografo ecco il rapporto con i fan com'era? era bellissimo stupendo ci si divertiva tantissimo scherzi ma poi noi sempre cioè ci potevano chiamare anche alle due del mattino in albergo perché noi eravamo sempre presenti sì sì ci si divertiva ti ho detto ti voglio far vedere anche questa foto guarda questa è la foto in pratica è la foto è la foto del primo album la foto sì allora sai dove stiamo dove eravamo qui al laghetto dell'Eur al laghetto dell'Eur eravamo esatto esatto al laghetto dell'Eur e il grafico poi dopo qui da una parte ci ha messo la scritta Trax ma tu non puoi sapere in quel periodo là vedi noi eravamo a torso nudo ma quelle foto quelle foto lì che tu vedi erano state fatte a febbraio mi immagino che è freddo no tu non te lo puoi neanche immaginare ci sono delle foto dove siamo andati vicino a Rieti in un paesino che si chiamava Pratoianni siamo arrivati lì ci eravamo tutti quanti ci eravamo portati anche due tre ragazze in quel periodo là mi ricordo che Paolo stava con Miriam Fecchi che poi dopo è diventata una grossa speaker radiofonica e oggi tuttora così che ci truccava insomma così alle sette e mezzo del mattino c'era tipo zero gradi un grado e mezzo e noi stavamo facendo le fotografie così cioè se non finiamo a fare quelle foto dobbiamo andare in ospedale tu non puoi sapere e dopo anche questa vedi questa copertina qui che sarebbe il davanti di questo in pratica vedi di questo qui questa qui è stata fatta al foro italico c'è una palla enorme noi ci siamo messi così in quella maniera lì e il fotografo ci faceva le fotografie dopo un quarto d'ora siccome era verso la mezzanotte e luna sono arrivate due pattuglie di carabinieri con i fari per vedere quello che stavamo combinando e gli abbiamo detto che stavamo facendo questa cosa ma un freddo ci avevamo sempre gli accappatoi addosso perché i francesi ci avevano detto mandateci su giù in Francia fotografie e tutto quanto perché qui dobbiamo partire alla grande e noi ci siamo inventati queste cose in una settimana abbiamo fatto tutto siamo andati su Milano a prendere vestiti abbiamo fatto le fotografie abbiamo mandato tutto quanto dopo 15 giorni che avevamo fatto tutto qua tutte queste cose ci hanno chiamate siamo cominciati ad andare su a Parigi andavamo a Parigi una volta ogni 15-20 giorni fra le televisioni fra le radio fra le serate abbiamo fatto dei video e ha funzionato poi in Germania abbiamo fatto delle televisioni in Svizzera con mi ricordo che c'era quella sera c'era anche Riccardo Cocciante Riccardo Cocciante grande artista è stato un bel periodo poi l'85 dicevi You Can Feel It che sarebbe stato poi l'ultimo abbiamo fatto sì abbiamo fatto You Can Feel It avevamo preso un annetto di pausa così abbiamo fatto You Can Feel It nel frattempo io Pietro e Mariano avevamo avuto l'idea di fare la live jockey quindi tre disc jockey che facevano i messaggi dal disco alla musica dal vivo e dalla musica dal vivo ripassavano al disco una cosa molto complicata tu immagina che per fare un provino noi di 20 minuti ci abbiamo messo circa 40 giorni abbiamo preso in affitto una sala in RCA l'RCA è stata una cosa micidiale perché stava inaugurando a Roma uno dei locali più importanti che si chiamava era l'ex Mecemor che poi dopo è diventato Acropolis mi ricordo che avevamo un banco mixer di 24 canali sopra la console quindi avevamo portato uno studio di registrazione sopra una console avevamo quattro tastiere bassi batteria tre batterie elettroniche quindi un lavoro enorme quindi nel nel messaggio di quei 15-20 secondi noi con le stesse tonalità con la stessa cosa passavamo piano piano la musica dal vivo e la facevamo quei 10-15 secondi dalla musica dal vivo cambiavamo le ritmi delle batterie elettroniche cambiavamo gli accordi così perché ci collegavamo con un altro disco che dovevamo missare ma interessante ma una cosa difficilissima che poi qual era il discorso che io non è che stavo ai piatti Peter stava alla console l'altro Mariano stava lì no ci cambiavamo in continuo tu vedevi questi tre personaggi che per due ore e mezzo tre ore sopra questa cosa ma tu immagina l'Acropolis di Roma lavoravamo tutte le sere escluso il lunedì dal martedì alla domenica con circa 700-900 persone tutte le sere cose che oggi non lo fai neanche più il fine settimana e il fine settimana del sabato c'erano sempre 1200-1400 persone incredibile a livello di Florinda Bolkan venivano noi abbiamo ancora delle fotografie anzi Mariano con Little Steven che è venuto sulla console c'è personaggi che di un certo spessore venivano in questa discoteca Acropolis di Roma Ex Matchmore abbiamo fatto e io lì dopo ci ho fatto nell'85 poi dopo fra l'87 all'88 sono ritornato giù a Capri e poi dopo sono ritornato nella zona delle Marche ma cosa è successo dall'85 in poi? I tracks si sono sciolti possiamo dire sì ognuno ha preso la strada sua Paolo e Pietro hanno cominciato a fare le loro produzioni hanno cominciato a fare i Cadence hanno fatto mi sembra il banco del mutuo soccorso dopo hanno fatto qualche anno dopo hanno fatto Marina Ray poi io e Mariano ci siamo rivisti qualche altra volta abbiamo fatto delle serate come disc jockey abbiamo prodotto dei altri dischi così e poi dopo ognuno ha preso la strada sua poi io dopo sono ritornato completamente nella zona qui delle Marche ma sai anni 90 metà anni 90 così la dance che andava nei 70 80 anche gli artisti degli anni 80 non funzionavano più non si faceva più neanche le serate perché c'era il dominio era cominciato a uscire l'house no quindi adesso in questi ultimi 15-20 anni no dal 2000 in poi è ritornato gli artisti ma se no molti da Gary Law a Gazzivo a quando poverino ancora era in vita a Mike Francis o Sandy Martin tutti questi artisti mi sono rincontrato ho fatto un disco tre anni fa con l'Eroi Gomez Santa Smeralda abbiamo fatto due o tre serate insieme perché io ho fatto tre edizioni di Disco Diva che è una una manifestazione che c'è qui a Gabice a Gabice Monte che è l'ultimo paesino delle Marche e tutti gli anni fanno una grossa manifestazione che si chiama Disco Diva dove ci sono stati gli Imagination ci sono stati i Delegation i Tramps l'Eroi Gomez io ho fatto tre edizioni due edizioni mi hanno chiamato e mi stava dicendo anche l'Eroi che pure lui per sette otto nove anni è stato fermo diciamo eh sì perché erano altri periodi insomma poi dopo piano piano ha ripreso un po' questa la famosa dance di quegli anni e adesso parecchi parecchi continuano a far serate insomma ecco ma hai qualcos'altro da farci vedere? allora allora io sono curioso ti volevo far vedere questo era eccolo ecco questo era un giornalino non c'è più la copertina che era un giornalino che andava molto forte ragazza in di quegli anni e noi ci avevano fatto ci avevano appunto chiamato perché era interessante quindi a metà pagina non so se si vede capito? ecco questo tu immagina qui stiamo qui c'è questa fotografia dove stiamo lì a Pratoianni a febbraio c'era un convento diroccato e stavamo facendo le foto lì dentro questa è la foto che hai visto te per fare gli autografi adesso sto andando su ecco sempre vedi tutti e quattro così questa è la ragazza in questo era quattro folli nati in discoteca questi questi era una cosa questa era un'altra cosa interessante però non so se si riesce a vedere bene questa era la top 75 dei dischi venduti in tutta Europa e noi qui eravamo al 55esimo posto però a livello europeo questa era qui l'ontro running qui c'era il calibro di gente come i Toto come tanti artisti queste sono delle belle soddisfazioni adesso ti volevo far vedere che poi dopo io per non farmi mancare niente ah ecco questo è molto interessante questo addirittura è il disco che io non ce l'avevo l'ho dovuto prendere il 45 è uscito anche anche l'album con l'RCA in Giappone questo era il disco giapponese edifico con la scritta dell'RCA con tutta la scritta è difficile vederlo però con tutta la scritta in giapponese è stato molto interessante questo in quel periodo e poi una cosa particolare dei giapponesi è che la copertina la tengono sempre separata dal disco ho dei vinili edizione giapponese tutti hanno la copertina staccata si e poi fanno delle cose ci mettono dentro degli inserti gli inserti soprattutto io ho delle colonne sonore edizione giapponesi dei film e ci mettono di tutto inserti foto gadget impressionante guarda questo invece è fatto get ready sempre in giappone qui c'è tutta la vedi di dietro c'è tutta quanta la solita storia sempre con l'RCA che è l'RCA quella volta era potentissima è come etichetta cioè l'RCA è come in Italia c'era l'RCA lì a Roma però funzionava ti volevo dire giusto per non farmi mancare niente in quel periodo che facevo il disgiochi che ero andato giù a Capri questa mi piace raccontarla perché mi ero siccome non dormivo mai ma ti ti dico una cosa non dormivo non perché prendevo sostanze perché sono stato sempre contrario a queste cose figurati che io sono completamente astemio per chi mi conosce lo sa benissimo non so cos'è il bicchiere di vino niente non ho mai imparato a fumare droghe non me ne è importato mai niente curavo più l'aspetto fisico e così e allora c'erano sempre questi timori chissà se mi fa male un giorno allora queste cose ero più fissato per l'aspetto e sono andato avanti e non dormivo perché ero anche adesso dormo non è che dormo dalle 10 di sera fino alle 9 del mattino dormo pochissimo poi tutto strano ti voglio vedere quanto tempo resisto allora d'accordo con il proprietario del locale il Piragna di Capri e con Tele Capri ho fatto un po' di pubblicità per vedere quante ore stavo dietro a questa console e ho iniziato di venerdì sera era verso le 9 e mezzo o le 10 a cominciare a mettere i dischi ho fatto tutta la serata del venerdì sera fino alle 4 le 5 del mattino ho continuato per tutto il sabato mattina sabato pomeriggio il sabato sera ho continuato per la serata la domenica mattina ho continuato a mettere i dischi domenica pomeriggio domenica sera il lunedì mattina insomma per far tra in breve avevo fatto 75 ore 75 ore senza dormire e a mettere sempre i dischi dal venerdì al lunedì sera il lunedì sera mi hanno fermato perché ero sotto il controllo del medico il dottore che mi veniva a controllare ero un carissimo amico però mi controllava la pressione i badi del cuore al mattino e alla sera prima di fare la serata e quella sera quando è stato verso le 10 di sera mi ha detto è meglio che ti fermi ti fermi altrimenti buonanotte comincia a esserci qualche problema sicuramente non funziona perché dici puoi andare avanti però è soltanto il nervosismo l'adrenalina che ti fa stare su potresti collassare da un momento all'altro perché non mi davano cioè non potevo mangiare perché sennò magari se mangiavo andavo in digestione e quindi mi prendeva il sonno e allora potevo mangiare soltanto la cioccolata soltanto quella e quando dopo circa 36 ore 40 ore 50 ore che non dormi l'unica cosa è che non devi chiudere le palpe perché se fai così il famoso colpo di sonno no? e non senti più niente non senti più niente allora mi aveva consigliato sempre il dottore dice guarda tieniti una ciotolina con dentro dell'aceto l'aceto che allora quando c'è un attimino così c'è qui un po' di cottone ti metti l'odore che ti dà quella botta che l'aceto lo senti un po' così e allora capito e andavo avanti con quelle con il pot coffee c'hai presente il coffee siccome a me il coffee il caffè me è così quello che quando senti un po' così un pezzettino un cioccolatino di pocket coffee boom e andavo avanti altre due o tre ore e dopo sono andato a finire guarda l'ho preso apposta sui giornali vedi su una settantina di giornali il record capito 75 ore a far girare i dischi poi c'era su altri giornali che ho portato qui ecco questo qui un po' più piccolino lo stesso che parlava di queste 75 ore e me l'hanno omologato e dopo sono andato dal sindaco con tutti i testimoni e mi ha rilasciato una certa una pergamena così e mi ha omologato qui era la festa quando lì al Piragna che avevo battuto queste 75 ore prima che il dottore mi chiesse fermati tutto quanto con tutti gli amici in console e qui in bianco e nero sempre al Piragna bella storia il piede giù a Capri come disjoker in un gran periodo fantastico fantastico guarda cosa ho trovato Get Ready versione in spagnola Get Ready questa era della Savor Fair erano vedi Savor Fair e vedi Polidor e Fai Va era il retro qui eravamo sempre guarda come eravamo vestiti eravamo su a Pratoianni a febbraio alle 8 del mattino un freddo della miseria vedi che davanti c'è Mariano con le braccia concerte vedi con quella faccia che sta lì così ma sai perché fatisce il freddo ma non molla perché era c'aveva un freddo della miseria era era freddo 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 non puoi sapere ti ripeto era un grado un grado e mezzo zero grado incredibile questo è Polidor questo è proprio l'etichettina era l'etichetta guarda quel freddo eravamo talmente a palla perché sapevamo che la sua in Francia stava succedendo l'ira di Dio che eravamo contentissimi guarda una cosa unicidiale il tuo ricordo più bello della tua carriera dall'inizio ad oggi qual è guarda lì ci sono stati tanti episodi per esempio quando avevamo raggiunto diciamo questo successo vabbè non ha durato anni 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 come tanti altri artisti però è stato molto molto stretto e molto ti vedi arrivare con la polizia c'era duemila persone che stavano lì a aspettare all'aeroporto alberghi così tutto è successo molto nell'arco di due mesi capito come ti voglio dire può darsi pure che magari se ci avevamo circa uno due anni di gavetta nel senso che il disco era andato un po' così così e avevamo fatto un'altra magari eravamo anche pronti e di episodi quel periodo è stato il più bello secondo me guarda ti devo dire la verità il periodo più bello è stato Capri come discioca di parlo questo come disgiochi Capri Capri quei sei mesi di Capri cioè non si possono descrivere c'è da farci un libro con quei sei mesi là perché nell'ottanta la gente si voleva divertire c'era il divertimento e Capri era frequentata da gente giusta insomma bellissimo quello è veramente subito dopo c'è il discorso di Trax quello ci siamo divertiti un giorno siamo andati a fare una tournée con Francesco con Mike Francis era venuto con noi eravamo io Pietro Peter Micioni Mariano e Francesco guarda non te lo puoi immaginare quanto ci siamo divertiti che poi Francesco era un ragazzo talmente tutto perfetto per benino ragazzino per bene sai proprio da una famiglia giustissima stupenda insomma lui era tutto preciso noi eravamo un po' più capito battaglieri con la macchina facevamo 300 chilometri e poi dovevamo fare un po' la prova ripartire lui dopo due giorni parlava col muro cioè tant'è vero che ha cominciato nel giro di altri due giorni e cominciava a vomitare non ne poteva più poverino ma a noi ci faceva ridere e Francesco era fortissimo poi dopo quando stavamo in macchina che ci raccontava le barzellette lui era fortissimo a raccontare Francesco ci raccontava delle barzellette stupende non puoi sapere cosa ci siamo divertiti tantissimo che bello Ax che bello a vedere Francesco così ci faceva morire perché lui era tutto mannaccio beh vabbè è stato un bel periodo quello che possiamo raccontarci certo immagina quello che che non si può raccontare che non si può raccontare cosa combinavamo negli alberghi o quando andavamo in giro ti puoi immaginare soltanto una cosa che a Rimini con Paolo una sera in un albergo correvamo al terzo piano tutti i due nudi lungo il corridoio non puoi sapere non te lo puoi neanche immaginare per una certa situazione io esco da una stanza che ero nudo poi esce lui che ero nudo e correvamo davanti dietro non voglio approfondire questo momento ma guarda il divertimento il divertimento pazzesco ci siamo divertiti ma l'ax di oggi l'ax di oggi a quest'età qui bisogna stare attenti a certe cose perché più passano gli anni peggio è è meglio non andare molto nudi te lo dico no no anche perché quella volta potevamo fare oggi ti arrestano niente continuo a fare delle serate quando capita di fare delle serate adesso con Mariano c'è un'idea di aprire di aprire vicino Rieti questi locali un locale dove si può fare della musica dove si può mangiare delle cosettine così gli aperi cena è un locale che Mariano era un ex bed and breakfast e adesso volevamo fare entro l'estate per fare lavorare il venerdì il sabato la domenica con amici di Sgiochi con cantanti più qualcuno che viene lì un club privato insomma vedere e più sempre in mezzo alla musica sempre magari qualche idea adesso sta uscendo anche Get Ready rivisitato è uscito l'Ontro Eranico per i 40 anni andiamo avanti così proseguiamo sempre in mezzo alla musica però ogni tanto la botta di fare la serata avere davanti la gente quello è il massimo è tutto è tutto far la serata a parte il discorso chiaramente è un discorso finanziario ma proprio una volta che tu fai una serata una volta che tu ti esibisci davanti alla gente stai bene almeno a me mi capita di stare bene per un mese mi sono è come fare una partita per chi ama il calcio di fare una partita a pallone diciamo ho rifatto una partitina fammi entrare in uno studio di registrazione a fare qualche cosa oppure fare una serata con qualcuno mi piace mi piace proprio mi esalta insomma e quando faccio le serate come disgioche le faccio col vinile non so neanche come si accende un cdj un cd te usi il vinile praticamente io do però tutto ho tutti i dischi degli anni 70 degli anni 80 in vinile addirittura faccio una mezz'oretta con i 45 giri addirittura con i 45 giri sì io ho tutta tutta la più bella musica della febbre del sabato sera con i 45 e faccio il messaggio con i 45 giri sì incredibile faccio anche qualche lento sono riuscito a far ballare i lenti sì mi piace ogni tanto qualche bel pezzo 3-4 pezzi ma riesco a mettere insieme una decina 15 coppie ballano i lenti ottimo Axe come dice Giovanna la mia ragazza saluta il grande John Tempest italiano che abbiamo qui ma sai che su adesso non so se c'è avevo preso sai a chi mi avevano paragonato aspetta non so se c'è qui mi avevano paragonato ah ecco sì 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 ecco guarda questo a David Louros dei Van Allen è vero è vero anche dei Van Allen è vero vedi questo questo era sempre ragazza in qui fratelli ah i fratelli vedi e insomma un po' di casino l'abbiamo combinato dai che si fa Axe salutiamo i nostri ascoltatori assolutamente sì li rimandiamo alla prossima la prossima volta magari vanno a vedere Trax Long Trail Running oppure Trax T-R-A-K-S Get Ready su YouTube vedono alcuni filmati oppure come Axe sai perché? perché noi in quel periodo ci dovevamo chiamare no Aurelio allora Paolo Micioni e Peter Micioni Paul and Peter poi c'era Marian Savati Mariano Salvati e io come Axe invece di Aurelio due A e una X Axe Donnell da alcuni miei parenti che sono nati 150 anni fa in America e da Donninelli sono diventati Donnell allora ho preso quel cognome là Donnell Axe Donnell fantastico ma perché scusa Axe non ci lasci se te la senti col ritornello di Long Train Running con love You know her son is Lucy Donald on the track She lost home and family And she won't Be coming back With a love Wear it to be Now With a love Grande Axe, grande applauso, hola, in questo momento c'è una hola dappertutto. Sì, pure qui, fuori dalla finestra. Tutti il condominio, tutti il condominio. Grazie, grazie. Come sei simpatico Axe, dai. Alla grande, andiamo avanti, dai. Parliamo anche di alcune produzioni che avevamo fatto anche con Polo, tipo di Claudia, Claudia Maurer. Claudia Maurer. Claudia Maurer. Avevo conosciuto una ragazza giù a Capri, che mentre stavo lì seduto la sento cantare. Eh, raccontami, raccontami, dai, raccontami. Canta Yesterday e io rimango in pari e dico, ma tu sei capace di cantare così? Un po' la John Bates, capito? Eh, così, va bene, perfetto. L'avevo frequentata un po', lei riparte per la Germania, dopo due o tre mesi ritorna a trovarmi a Roma. Io la faccio ascoltare a Paolo, a Pietro, la porto in sala e così. Insomma, per fartela in breve, è stata a Roma sette giorni, è andata via con un disco. Forlolo, è stato lì. Roberto Masa l'ha fatto un disco al volo, papapam. Quella volta si poteva fare, oggi magari, non so, però. Anche quello lì è stata un'esperienza bellissima. Claudia Maurer. Lei era una ragazza stupenda. Era sul genere di Dalila di Lazzaro, per dirti. Alta, occhi azzurrissimi, bionda. E quella è stata perché io la sentivo a cantare. E quando è arrivata a Roma l'abbiamo portata in studio. Allora, via, così. Capitano queste cose. Come capitava che magari, non so, alla notte, uscivamo dallo studio, andavamo a mangiare. A Piazza Mazzini ci ferma la polizia, con tutte le mani su di sopra. Voglia dirgli noi artisti, capelli lunghi, via, tutti in caserma. Sì, sì. Con te bisognerebbe stare ore a parlare. Ce ne siamo fatti. Vabbè, dai, dai, la prossima volta. Alla prossima, alla prossima volta. Amici, vi aspetto tutti alla prossima chiacchierata. Un saluto da Massimo e da Axe Donnell. Ciao a tutti. Ciao Max, ciao Belli. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao ciao. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti